Per la terza volta consecutiva Legambiente Toscana ha fatto di Arezzo la capitale dell'acqua scegliendola come contesto per il forum annuale dedicato alla risorsa idrica e dopo i drammatici eventi alluvionali che hanno colpito il territorio regionale il forum ha affrontato proprio questo tema. Oggi analizziamo in particolare quando c'è troppa acqua quindi stiamo parlando di eventi estremi, stiamo parlando di alluvioni, frane, allagamenti quello che occorre è una concertazione, una sinfonia di soggetti che remino tutti nella stessa direzione perché non abbiamo altra scelta che adottare soluzioni win-win, vincenti per tutti quindi dare spazio alla natura, adottare soluzioni basate sulla natura cercare di veramente mettersi in sintonia con il respiro della natura sembrano cose banali ma in realtà questo si traduce in una serie di attenzioni di consapevolezze anche quando si fa fare opere di prevenzione perché spesso quando si parla di opere di prevenzione si parla di cemento si parla di dighe, si parla di ampliamenti di argini, di innalzamenti di argini in realtà ci sono molte soluzioni che possono essere adottate con l'ingegneria naturalistica Per rendere i nostri territori resilienti davvero a questi nuovi effetti dei cambiamenti climatici occorre anche una strategia condivisa condivisa con l'autorità di Bacino e con la regione per nuove opere strategiche nel territorio ed è importante anche ripensare il modo di intervenire nei territori con un'ottica più ambientale quindi dando un valore all'ambiente in cui andiamo ad operare Grazie a tutti